Ferutec è un'azienda con sede in Genova che si occupa di distribuzione all'ingrosso di accessori per seramenti e prodotto finito. L'avventura è iniziata nel 1983, quando io e i miei colleghi di quel tempo abbiamo iniziato questa avventura imprenditoriale in un campo che allora era considerato solo un settore la scelta. Ferutec ha registrato da subito una crescita continua, diventando leader nel settore e costituzionando un riferimento importante per la propria clientela, grazie anche alla competenza riconosciuta, alla serietà e alla fidabilità che abbiamo dimostrato negli anni. Il nostro magazzino di oltre 1500 metri quadri è interamente saturato con 50.000 referenze subito disponibili e pronte per essere consegnate con mezzi nostri su tutto il territorio. Fin dall'inizio della nostra attività abbiamo sempre trattato tutti i fornitori primari del settore, garantendo la massima qualità al miglior prezzo con un network di contatti che conta oltre 600 tra clienti e fornitori. Con sei venditori esterni, più un altamente specializzato nel supporto dei prodotti finiti, Ferutec opera in tutta la Liguria e il Basso Piemonte. Ufficio vendita è strutturato secondo le diverse competenze, attraverso ordini, preventive e consulenze tecniche. Il nostro team è sempre al lavoro per soddisfare in modo rapido ed efficace tutte le richieste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.